3. Foltest era snello e aveva un viso bello, troppo bello. Non aveva ancora quarant'anni, stimò lo strego. Era seduto su un nano scolpito in legno nero con le gambe allungate verso il camino, davanti al quale si scaldavano due cani. Accanto a lui, su una cassa panca, sedeva un uomo anziano dalla barba lunga e di costituzione robusta. Alle spalle del re, stava ritto un altro uomo, riccamente vestito, il viso dall'espressione fiera. Un nobile. «Uno strego di rivia», disse il re dopo il breve silenzio calato alla fine del discorso introduttivo di Velerad. «Sì, sì, re». Geralt chinò la testa. «Per quale motivo ti sei imbiancato così? Per gli incantesimi? Vedo che non sei vecchio». «Bene, bene. È uno scherzo, non dire niente. Hai qualche esperienza, oso supporre». «Sì, sì, re». «Le ascolterei volentieri». Geralt si inchinò ancora di più. «Eppure sapete bene, sì, re, che il nostro codice ci vieta di parlare di ciò che facciamo». «Un codice comodo, signor strego, molto comodo. Ma insomma, senza entrare nei dettagli, hai avuto a che fare con Borovic?» «Sì». «Con vampiri? Con Lesni?» «Anche». Foltest esitò. «E con Strigi?» Geralt sollevò la testa e fissò il re negli occhi. «Anche». Foltest distolse lo sguardo. «Velerad, vi ascolto, sire». «Lo hai messo al corrente dei particolari?» «Sì, sire. Sostiene che sia possibile spezzare l'incantesimo». «Questo lo so da un pezzo. Ma in che modo, signor strego? Ah, giusto, dimenticavo il codice». «Bene, solo una piccola osservazione». «Qui da me sono già venuti alcuni vostri colleghi». «Velerad, gliel'hai detto?» «Bene». «Dunque so che la vostra specialità è più uccidere che non sciogliere incantesimi». «Beh, è escluso. Se a mia figlia cadrà un solo capello dalla testa, metterai la tua sul ceppo. Questo è quanto». «Ostrit e voi, signor Segelin, rimanete. Gli fornirete tutte le informazioni che vuole. Fanno sempre tante domande, gli streghi. Dategli da mangiare e un alloggio al castello. Che non gironzoli per bettole». Il re si alzò, fischiò ai cani e si avviò verso la porta smuovendo la paglia che ricopriva il pavimento. Sulla soglia si girò. «Se riesci, strego, il premio è tuo. E magari, se farai un bel lavoro, aggiungerò qualcos'altro». Naturalmente, le frottole che circolano tra la plebaglia sulle nozze con la principessa non contengono una sola parola di verità. «Non crederai forse che darei mia figlia in sposa a un vagabondo qualunque?» «No, sire, non lo credo». «Bene, questo dimostra che hai un po' di sale in zucca». Folt estusci, chiudendosi la porta alle spalle. Velera dei nobili, che fino a quel momento erano rimasti in piedi, si sedettero subito al tavolo. Il borgomastro vuotò la coppa del re, ancora mezza piena, lanciò un'occhiata alla brocca e imprecò. Ostrit, che aveva occupato la poltrona di Folt est, guardava lo strigo da sotto in su, accarezzando i braccioli scolpiti. Segelin, il barbuto, fece un cenno a Geralt. «Siedi, signor strigo, siedi. Ti sarà subito portata la cena. Di cosa desideri parlare? Il borgomastro Velera deve averti già messo al corrente di tutto. Lo conosco, e so che è più probabile che abbia detto troppo che non troppo poco. Ho alcune domande. Ti ascoltiamo. A sentire il borgomastro. Dopo la comparsa della strige, il re ha convocato molti saggi. «È vero, ma non dire strige, di principessa. Meglio che davanti al re eviti certi errori e i guai che ne conseguono. Tra i saggi c'era qualcuno di noto, di celebre.» «Sì, ce ne sono stati tanti. Allora e in seguito. I nomi non li ricordo. E voi, signor Ostrit?» «No», rispose il nobile. «Ma so che alcuni godevano di fama e rispetto. Se ne è parlato tanto.» Concordavano sul fatto che fosse possibile annientare il sortileggio. Segelin sorrise. Erano tutt'altro che concordi su qualsiasi argomento. Ma questa opinione è stata espressa. Doveva trattarsi di un'operazione facile, che non richiedeva neppure capacità magiche. Da quanto ho capito, sarebbe bastato che qualcuno passasse la notte nel sotterraneo, accanto al sarcofago, dal tramonto del sole al terzo canto del gallo. «Un gioco da ragazzi», sbuffò Velerad. «Vorrei sentire una descrizione della... principessa.» Velerad si alzò di scatto dalla sedia. «La principessa, all'aspetto di una strige!» urlò. «Della strige più strigesca di cui abbia mai sentito parlare. Sua altezza la figlia del re, quella maledetta bastarda, è alta quattro cubiti, ricorda un barile di birra. Ha una bocca che va da un orecchio all'altro, piena di denti acuzzi come stiletti, occhi scarlatti e irsuti capelli rossicci. Le zampe anteriori, artigliate come quelle di un gatto selvatico, le penzolano fino a terra. Mi stupisco che non abbiamo ancora cominciato a mandare le sue miniature alle corti alleate. Ormai la principessa, che la peste la soffochi, ha quattordici anni, è ora di pensare a darla in sposa a qualche principe.» «Dominati, borgomastro.» Ostrit si accigliò, lanciando un'occhiata in direzione della porta. Segelin fece un lieve sorriso. «La descrizione, sebbene così pittoresca, è stata abbastanza precisa, ed era questo che premeva al signor strego, non è vero?» Velerad ha dimenticato di aggiungere che la principessa si muove con incredibile rapidità, e che è molto più forte di quanto si potrebbe dedurre dalla sua altezza e dalla sua costituzione. Che abbia quattordici anni è un fatto, per quanta importanza possa avere. «Cel'ha. Gli assalti hanno luogo solo durante la luna piena», disse lo strego. «Quelli fuori dal vecchio castello, sì», rispose Segelin. «Al suo interno la gente è sempre morta, a prescindere dalle fasi lunari. Ma lei esce solo durante la luna piena, e non sempre. C'è stato almeno un caso di attacco di giorno?» «No, di giorno no. Devora sempre le vittime». Velerad sputò con violenza sulla paglia. «Che il diavolo ti porti, Geralt. A momenti arriverà la cena. Pua! Le devora, le addenta, le abbandona. La cosa varia, probabilmente a seconda dell'umore. A uno ha solo staccato la testa con un morso. Qualcuno l'ha sventrato. Qualcun altro l'ha rosicchiato a puntino, fino all'osso, si può dire. Figlia di puttana». «Attento, Velerad. Di pure quello che vuoi sulla strege, ma non insultare Adda in mia presenza, come non osi farlo in presenza del re», sibilò Ostritt. «C'è stato qualcuno che sia sopravvissuto a un suo assalto», chiese lo strigo, apparentemente non prestando attenzione allo scatto del nobile. Segelin e Ostritt si scambiarono un'occhiata. «Sì», disse il barbuto. «Proprio all'inizio, sei anni fa, si è gettata su due soldati di guardia alla cripta. Uno di loro è riuscito a scappare. E in seguito c'è stato il mugnaio che ha attaccato nei pressi della città». «Ricordate», aggiunse Velerad.